E dove stava la terra? Entrava e la fragrante? E dove stava la terra? E dove stava laストrazione? E dove stava la terra? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. My name is Antoni Hermes and I'm conductor from the Netherlands and I'm now conducting with the Evergreen Symphony Orchestra and seven international soloists. It's a beautiful program with opera and musical highlights from all over the world. You should come and see it because it's fantastic.